Ho visto in camera tutti voi per la scelta un beneficio della location, ho un grande comitato elettorale, un grande staff che ha fatto un grande lavoro, questo è questo che abbiamo pensato meglio, ma detto questo, allora grazie davvero, lo dico da qui, a tutte le elettrici, a tutti gli elettori che ci hanno sostenuto, che hanno creduto in noi, nella nostra scommessa politica, evidentemente il risultato è netto, inequivocabile, siamo di conto a una vittoria della destra in Lombardia, di un'altra vittoria della destra in Lombardia netta, ho telefonato al Presidente Fontana, complimentandomi con lui, com'è giusto e poveroso fare in una situazione di questo tipo, in un contesto di questo genere. Ovviamente il dato dell'astensionismo è un dato preoccupante che credo tutto il mondo politico non debba assolutamente rimuovere o trascurare, ma ritengo anche che non debba in alcun modo suonare tutto ciò come un alibi, perché siamo di fronte davvero a un'affermazione della destra assolutamente netta. Ringrazio, qui voglio farlo, tutte le candidate, i candidati che hanno fatto parte di questo laboratorio a cui abbiamo dato vita e le quattro liste con cui abbiamo creato, io credo una scommessa difficile che due mesi fa appariva evidentemente come durissima, ma che abbiamo affrontato a testa alta, tra l'altro mi fa molto piacere aver visto, grazie al lavoro, in un istituto che abbiamo preso il maggior consenso nell'ambito del voto giovanile. Abbiamo avuto una campagna elettorale di fronte a noi dall'inizio molto complicata, come sapete due mesi fa quando siamo partiti la domanda che tutti si facevano era che arriverà secondo tra Maglierino e Moratti, oggi non posso certo dire di aver raggiunto il consenso di Artiglio Fontana, devo anche dire che mi auguro che il terzo polo rifletta sulla scelta che lo ha portato a sostenere Tizia Moratti. Il consenso della destra ovviamente non ci autorizza a analisi semplici, banali e credo che bisogna andare avanti con molta nettezza in regione Lombardia a creare un'opposizione che sia determinata anche per il motivo per cui ovviamente come ho detto dall'inizio mi dimetterò da parlamentare europeo per rimanere in consiglio regionale come giusto e doveroso che sia per portare dall'opposizione il mio contributo per aiutare le forze della nostra coalizione a poterlo portare in modo puntuale. è chiaro che abbiamo avuto settimane complesse, abbiamo fatto questa sfida nel momento di maggiore difficoltà della storia del Partito Democratico, non è stato assolutamente facile, non avere una leadership nazionale ci ha costretto a fare sempre un di più, anche se devo dire che ho sentito la comunità del Partito Democratico Lombardo assolutamente al mio fianco. Certo rimane il rammarico di presentare un candidato due mesi prima del voto, cosa che non è consigliabile io credo sempre in una regione governata da un'altra parte per 28 anni con livelli di consenso delle elezioni politiche solo a settembre altissime, veramente rende tutto evidentemente molto più duro e difficile. Dopodiché mi cerco alibi, nel senso che sapevo che le condizioni erano queste, ringrazio davvero tantissimo tutti i colori, tutti quelli che si sono spesi in queste settimane attraverso una campagna elettorale affassionata, complessa, che ci ha visto andare ovunque come era giusto e doveroso fare. Quindi grazie davvero, lo dico anche che si sta seguendo in streaming e in diretta, rimando a disposizione se lo desiderate di domande di qualità. Ho sentito la vicinanza del Partito Democratico Lombardo e di quello nazionale? Tra i quattro candidati ci sono stati, ci sono stati insieme a un'iniziativa finale, in relazione ancora, ci sono stati diverse iniziative. È chiaro che non aver avuto un leader a livello nazionale non ci ha aiutato, questo è ovvio, penso che siamo un caso studio a livello internazionale per aver fatto la consultazione sulla leadership interna durante delle elezioni regionali interrelevanti come quelli della Lombardia e interrelevanti come quelli del Lazio. Però tutto questo, il PD a livello Lombardo ha combattuto unito e tra l'altro mi sento di dire che adesso dovremmo fare strani sui stati definitivi, ma anche il voto di vista è un voto che lo vede in crescita al momento di rispettare lo stesso tempo lì. La scelta di rimanere in Lombardia comporta anche un progetto, un'idea di un impegno ulteriore come punto di riferimento per il PD e per il centro-sinistra sul territorio? Ma questo adesso vedremo come, ma sono due parole, innanzitutto il consigliere regionale con grande determinazione, convinto che non si debba ogni volta azzerare il lavoro che si è fatto e che questa sfida durissima che è la sfida per il governo della Lombardia qualcuno un giorno la dovrà vincere. Quindi mi auguro di poter portare a qualcuno in dote un lavoro fatto per rafforzare l'opposizione. Infatti una posizione che deve essere io credo combattiva ma anche molto propositiva. Senta, è stato un errore non aver accettato il ticket con Letizia Moratti? Il ticket con Letizia Moratti non era possibile. Poi mi pare che gli elettori hanno dato un giudizio spietato della proposta di Letizia Moratti che mi risulta in questo momento non riuscire nemmeno entrare in consiglio regionale. Quindi credo che gli elettori hanno spiegato come quella dell'accordo con Letizia Moratti fosse davvero l'ultima ipotesi possibile. Non essere passati dalle primarie invece in quella fase precedente alla sua candidatura? Ma guarda, io credo che le primarie possono essere utili e anzi sono certamente sempre la strada migliore. Se le avessimo fatte il 19 di dicembre, come era in quel momento l'unica possibilità, quando sono stato scelto tra gli elettori e con un'alleanza tutta da costruire non sarebbero state semplicemente praticabili. Si doveva, io credo, il centro-sinistra deve imporsi di scegliere mesi e mesi prima il candidato. Questa è la verità. Lombardia è una terra enorme con 10 milioni di abitanti, puoi fare anche 800 iniziative, come ho fatto io, in tanti luoghi per la prima volta. Quindi direi questo. Quale crede sia stato il suo errore o un sbaglio più grande per la campagna elettorale? Il mio? Ma ha fatto una frase infelice per cui ho abbondantemente chiesto scusa e in questi due mesi sinceramente ho poco da rinproverarmi. Siamo partiti da una condizione durissima, da un dato, da un verdetto elettorale del 25 settembre, delle elezioni politiche chiarissimo e nettissimo. Sinceramente, in questi due mesi non credo di aver fatto grandi errori. Io ho detto che il terzo polo dovrebbe riflettere dopo che ciò dato il calello, poco fa, il comino a Giorgio Mori ha detto che il centro e la sinistra non sono mai stati in partita neanche lo ipotesi conformato di tanto l'anno. Non lo so, adesso io lascio al terzo polo la discussione su di sé. Mi pare evidente che se era stata in Lombardia e anche a Milano la novità delle elezioni politiche, il terzo polo, queste elezioni fanno prendere un colpo pazzesco al terzo polo in Lombardia e a Milano. Poi è anche vero che magari non avremmo vinto comunque. Questo è possibile. Quindi non sto dicendo, ripeto, non cerco facili alibi o via di fuga. Dico però che la scelta di Letizia Moratti è stata incettata in maniera enormemente significativa dagli elettori. Cosa dice questo voto invece sull'alleanza con il Movimento 5 Stelle che c'è stata in Lombardia? Ma io credo che ci abbiamo trovato e mi auguro che si prosegue in un buon dialogo. C'è stato molto rispetto da parte dei 5 Stelle e sono convinto del fatto che abbiamo aperto una fase di dialogo che mi auguro va davanti. Ma soprattutto mi auguro che le tre forze d'opposizione a livello nazionale si impongano una cosa, che quando c'è il turno unico, se non finisci in questa fase storica, vince la destra. Questo è vero in regione Lombardia, una regione dove la destra arrivava con un consenso fortissimo, ma purtroppo è vero anche nel Lazio, dove non riusciamo a vincere il meno nel Lazio, ovvero tanto ben governato. Ma si aspettava qualcosa di più la varianza che non si spette a livello migliore? Ma non so valutarlo questo, nel senso non do ai 5 Stelle la responsabilità del risultato. Certo, mi auguravo, sapevo che era durissima, mi auguravo di arrivare più vicino a Fontana, su questo non c'è più. L'ha sentito? Ci siamo scambiati un paio di messaggi. Il mio dovere è fare l'opposizione, la farò in maniera cosciuta, combattiva e propositiva. I giovani però l'hanno dotato. Sì, questa è una cosa molto bella, il fatto che la maggior parte dei giovani che ha partecipato ha scelto per me, è una cosa che mi ha riempito del svolgio, è molto informazione. Perché non hai riuscito a raggiungere, diciamo, la costa dei 55? Eh, insomma, vedremo le analisi, aspettate un secondo, siamo ancora qui ad aspettare i numeri, sapevo che eravate in condizioni di palese disagio, quindi sono dovuto venire a posta a parlarvi, però... Il PD era sotto attacco, no? In queste elezioni, è affrontato in un momento più difficile della propria storia, paradossalmente tenendo, nel senso che siamo in una situazione in cui il PD può dire che in entrambe le regioni, alla fine, sono convinto a portargliere, il voto di lista ha tenuto. Ovviamente quando è in gioco non la lista che basta, ma la scommessa per il governo, non basta una buona affermazione. Sono convinto che da queste primarie possa arrivare una buona, diciamo, una buona emozione interiore. Credo che il PD deveva serenamente sapere che ha bisogno di ripostruirsi. Quello che abbiamo fatto qui è un contributo che va in questa direzione, lo dico ovviamente, avendo ben chiarità. Ma io dico, si sapeva che la pratica era efficace, che gli aveva portato tutto quello che facevo, e sperava di arrivare un po' più vicino a contatto. E questo risultato come lo possiamo vedere? Il problema è poi un risultato, un aggettivo. Ma io credo che sia un'affermazione vera della destra, e su questo non c'è nulla. Credo che gli elettori meritassero una coalizione unita, sempre. Questo, penso, in questo, ripeto, penso che la scelta del terzo polio, che aveva avuto un accordo con noi, sia stata una scelta davvero sbagliata. E a quello che ci riguarda, credo che è, rispetto alle politiche, che è un primo passo per una ricostruzione, mettiamola così. Però, dico tutto questo con grande semplicità, e appunto senza una boria che apparirebbe totalmente indistituita. Grazie. Ok? Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.